Torno in Abruzzo dopo la parentesi che ho fatto all'Atletico Ascoli nelle Marche e sono molto contento di essere arrivato a Teramo. Sì, conosco la piazza perché comunque Teramo è stato molti anni nei professionisti e per questo l'ho seguita. Adesso è tutta un'altra situazione e sta a noi riportare il Teramo nelle categorie che contano. Sono un centrocampista offensivo, una mezzala di inserimento ma mi adatto molto bene anche in mezzo al campo. Sì, ho visto un attaccamento a questa maglia, a questi colori, ci tengono quindi noi siamo molto motivati e cercheremo di portare il Teramo dove merita. Queste piazze meritano altre categorie quindi solo il campo darà le giuste risposte. È nata la trattativa grazie anche al mister Alpumante che ha avuto modo di conoscerlo a Pinedo come compagno di squadra e poi come allenatore quindi è diventato tutto molto più semplice.